Benvenuti alla TGNO, la disinformazione nelle vostre case. È in arrivo l'estate e la Sicilia si prepara al meglio per accogliere i turisti. E cosa succede? Tariffe aeree aumentate, autostrade interrotte, bandiere blu dimezzate. E grazie alle solite promesse non mantenute dei nostri politici, appena sbarcati nella nostra isola, i visitatori saranno accolti da un cartello con la scritta Benvenuti all'isola dei fangosi! Andiamo con il nostro primo quotidiano, l'Avanzi. L'Avanzi ha come titolo centrale Sicilia, terra senza tempo. E la parte superiore, il cappello recita e ancora come l'ha lasciata Archimede, Empedocle, Stesicoro, mentre il catenaccio chiude con, è senza treni veloci, senza autostrade, metropolitane, collegamenti aerei. Il nostro secondo quotidiano, il Faglio. Titolo centrale è tempo di prova costume. Noi siciliani siamo già in mutande, mentre per quanto riguarda il costume, ci suggerisce il giornale, i politici scelgono quello di Pulcinella. Ah, io? Io la provo, questo non l'ho fatta. E comprerò uno più grande. Qual è la canzone del nostro TG di Paolo Conte? Una giornata al mare. Una giornata al mare. Solo ecco mille lire. Sono venuto a vedere questa acqua e la gente.